Oggi signori parliamo di Jurassic World Fallen Kingdom, la conversazione di oggi è un po' complicata perché è un po' tecnica, parlano di business, ok? I due personaggi in questione parlano di business, andiamo a sentire. It's seed money, it's seed money, che cosa vuol dire? I seed money sono i soldi che qualcuno utilizza per iniziare un progetto nuovo, per iniziare un business nuovo, per aprire una nuova azienda. In italiano penso si dica capitale di avviamento, ma non sono un esperto. E dopo dice call it an overture to something much more ambitious. Quel overture vuol dire un'introduzione, ok? Puoi chiamarla se vuoi un'introduzione a qualcosa di molto più grande, molto più ambizioso. Quindi praticamente il senso della scena qual è? Ma gli dice guarda la vendita di questi dinosauri non è per far soldi, ma è per avere dei seed money, un capitale iniziale di avviamento per il nostro progetto molto più ambizioso, molto più grande.